L'accordo sul riconoscimento reciproco fra lo Stato di Israele e la Santa Sede è un momento di straordinaria importanza nel rapporto fra ebrei e Chiesa cristiana e Chiesa cattolica. Il merito è di Giovanni Paolo II, che decide di porre fine a un pregiudizio, a un veto, a una convinzione, che cioè il popolo ebraico, non avendo creduto a Gesù, era condannato a restare per tutta la poverità in diaspora e dunque non aveva diritto a ricostruire il proprio Stato. Questo pregiudizio, alla radice di un antisemitismo cattolico che ha avuto nella storia conseguenze feroci e spietate, ha iniziato a essere demolito dal concilio Vaticano II. Giovanni Paolo II lo porta a compimento, rendendosi protagonista di un gesto di riconciliazione di spessore storico.